Antonio Maggi, segretario Suma e AssoProf. Tra pochi giorni il congresso nazionale e molti temi attuali sulla sanità, tra questi la mancanza di medici specialisti. Se ne parlerà? Se ne parlerà, certo che se ne parlerà, anche perché è un problema centrale. E proprio le regioni lo hanno posto per prime, cercando di trovare delle soluzioni che noi riteniamo molto fantasiose. Perché in realtà poi bisogna scoprire se davvero mancano gli specialisti in Italia in questo momento. Io, tanto per anticipare un dato, ci sono ben 20.000 specialisti giovani al di sotto dei 45 anni che sono pronti ad entrare nel Servizio Sanitario Nazionale. Ci sono ben 34.400 specializzanti. Nei prossimi anni andranno in pensione circa 52.000 medici. Quindi facendo due conti, diciamo che tra specializzanti e specialisti che già specialisti che cercano e si aspettano di entrare nel Servizio Sanitario Nazionale, già questo coprirebbe il turnover. Dov'è il punto base? Se davvero si vuole fare entrare e avere una qualità prestazionale. Perché chiaramente una delle politiche in questo momento, stiamo vedendo in Italia, ma non solo in Sanità, ma un po' dappertutto, è l'abbassamento delle competenze. Abbassare le competenze nella medicina, che chiaramente è fatta di competenze, più alta la competenza, più sono le persone che devono partecipare a un'equipe specialistica. Perché dico questo? Perché ormai non è possibile più per un medico avere la conoscenza completa di tutto. C'è il medico che sa tutto sulla mano destra e magari non sa della mano sinistra. Avere sia quello della mano destra che quello della mano sinistra permette appunto di alzarle queste competenze, ma devono essere appunto specialistiche. Quindi ovviamente fare e privilegiare questi colleghi e magari, detto tra di noi, dare la modalità e la possibilità a chi non è specialista di specializzarsi. Quindi aumentare le borse a tutti quanti, far chiudere il percorso formativo a tutti i medici italiani. Questa è la ricetta più importante e questo sicuramente innalzerà quelle che sono le capacità che un servizio sanitario nazionale può offrire a tutti i cittadini. Il titolo del congresso, specialistica ambulatoriale e universalismo differenziato, è una provocazione? La scelta nasce spontanea, visto la richiesta da parte delle regioni di una maggiore autonomia. Quindi chiaramente anche per cercare di mettere insieme quella che è la base del servizio sanitario nazionale, cioè l'universalismo dell'assistenza a tutti gli italiani, con il fatto appunto del regionalismo differenziato. Quindi mettere insieme le due cose e quindi è un titolo provocatorio, ma anche che ci permetta un attimo di fare un confronto serio per come poter in qualche modo, anche differenziando l'attività sanitaria nelle regioni, ma dare ai cittadini in maniera uguale, il più possibile uguale, un'assistenza sanitaria a tutti quanti. Voi avete già ragionato su possibili soluzioni? Noi abbiamo già ragionato su possibili soluzioni, ovviamente però non vorremmo anticiparle già da adesso, ma vorremmo che queste soluzioni possano uscire condivise all'interno di un dibattito tra le regioni, il governo e noi specialisti ambulatoriali.